Giulio, qualche consiglio a margine di questa giornata da dare ai giovani, anche sentite le loro esperienze? Posso? Certo. Allora, cosa essenziale, non posso dare consigli, non mi permetto di dare consigli, però la cosa essenziale è che i ragazzi, cioè loro, devono credere in quello che fanno, devono specializzarsi, vedete ragazzi, si devono specializzare, devono studiare, molto, è così? Questo è quello che ho detto, in un'ora e mezza sono state più brevi, più veloci. Che ho detto più? Grado di attenzione è incredibile, vero? Brasilia, che ho detto? Molte cose, è stato molto interessante, ha parlato di varie cose che... Cioè? Una cosa, dine una. Ha parlato dei soldi che devono arrivare, poi hai parlato, delle scuole, è vero, no, senza volta di vogolare. Bisogna studiare e specializzarsi e fare, avere un po' di fortuna e fare il mestiere che vi piace. Grazie. Lei mi doveva fare l'intervista. Domani. 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 Domani.